Mi presenterei innanzitutto, sono Filippo il mio nome, sono un grande amante del bere, bere bene, ovvero champagne, vini rossi e anche qualche super alcolico e poi sono ludopatico frenetico, mi ballo tutta la fresca, a gioco, a bere e qualche sbarbata ogni tanto che ovviamente la porti fuori al ristorante, io sono un signore un po' all'antica, le offri la cena, le offri la serata, diciamo che la mia vita è dedicata al bere, al gioco e a qualche fanciulla. Ok, perfetto.